Da qualche tempo nel mar Mediterraneo si sta diffondendo in modo preoccupante un verme marino chiamato vermo cane. Nell'antica Grecia il vermo cane era un animale mitologico che poteva assumere due diverse sembianze, quella di cane strisciante senza arti o quella di insetto degli inferi che abbaiava. I ciuffetti bianchi che si possono osservare lungo i lati del suo corpo sono costituiti da setole calcare e urticanti dette chete. Il contatto con le chete che possono anche rimanere conficcate nella pelle genera una forte sensazione di bruciore da cui deriva anche il nome di verme di fuoco. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!